Domani il Consiglio Comunale è molto importante perché ci sarà in prima cosa il riconoscimento di debiti fuori bilancio e quindi delle cifre molto importanti purtroppo per la città di Riedi perché si tratta di debiti pregressi che vengono riconosciuti dal Consiglio Comunale per circa 3 milioni e mezzo di Euro, questa è all'incirca la cifra che il Consiglio Comunale si troverà domani a dover deliberare, poi all'interno del Consiglio Comunale chiaramente c'è anche la mozione di sfiducia al Presidente della Commissione bilancio Simone Miccadei presentata da tutti i consiglieri di opposizione, io spero che sia e su questo sto lavorando in queste ore di cercare soprattutto di fare una discussione civile il più rispettosa possibile delle varie posizioni anche perché in questi giorni abbiamo visto che la Fire come qualcuno dice Miccadei è stata sui giornali e ha prodotto qualche posizione abbastanza forte quindi sto cercando da questo punto di vista di tranquillizzare il Consiglio Comunale per cercare di far sì che le varie posizioni vengano espresse in modo civile senza nessun tipo di problema